L'edificio Exinam in via 20 settembre, che ospitò in passato anche la sede di Abruzzo Engineering, sarà un parcheggio a disposizione dei cittadini dell'Aquila. Il chiarimento del manager della ASL, Ferdinando Romano, la proprietà infatti è della ASL, mette fine alle discussioni e alle polemiche che nelle ultime settimane hanno riempito le cronache cittadine. Il comune in realtà già era in trattativa con la ASL per una permuta. La struttura non è considerata strategica per l'azienda sanitaria perché gran parte dei fondi sarebbero assorbiti dalla demolizione, lo ha chiarito lo stesso manager. Di lì la scelta di mettere a disposizione uno spazio che potrebbe risolvere molti problemi legati alla carenza di parcheggi a servizio del centro storico. Operazione che quindi è già in corso e manca solo l'autorizzazione del Cipe per spostare le risorse, circa 5 milioni di euro. La ASL aveva chiesto al Cipe il finanziamento infatti per il recupero dell'edificio. Le prime interlocuzioni tra comune e azienda per questa vicenda risalgono in realtà al 2017. Poi le speranze si erano affievolite quando la ASL aveva pubblicato un bando per progettare demolizione e ricostruzione. Poi fortunatamente il discorso è ripreso e andrà a buon fine questa volta con buona pace degli aquilani che da tempo segnalavano anche lo stato di degrado dal punto di vista igienico sanitario dell'area dove molti sono tornati ad abitare.